Giorni di attesa per certi versi infinita in cui si vuole conoscere il futuro dell'Avellino Calcio e scritta al campionato di Serie C ma che al momento inorganico ha il solo presidente, Claudio Mauriello. E non basta per affrontare una stagione, servirebbe un direttore sportivo, un allenatore con il suo staff, uno staff medico e una rosa di circa 25 calciatori per disputare un torneo quantomeno soddisfacente senza rischiare possibilmente di retrocedere nuovamente in Serie D. E allora i tifosi si chiedono quando si comincerà a vedere qualcosa di concreto. Mauriello nella conferenza stampa di lunedì al Comune aveva annunciato un incontro con i commissari per avere l'ok ad allestire la rosa. L'allenatore scelto, lo diciamo da tempo, è Eziolino Capuano, mister capace di esaltarsi nei momenti complicati e questo senza dubbio lo è. Capuano è in costante contatto con Disomma, figura storica del calcio avellinese che smentisce a destra e manca il suo operato sotto traccia ma sappiamo che al momento il braccio destro di Mauriello è lui. Non è dato sapersi se in futuro si insedierà ufficialmente come direttore sportivo o direttore generale ma questo conta fino ad un certo punto al momento. La situazione dell'Avellino è delicata, non è da trascurare che la formazione irpina possa cominciare il torneo con due o tre punti di penalizzazione in quanto nel momento della presentazione dell'iscrizione bisogna indicare anche le figure come allenatore, direttore sportivo, medico e fisioterapista. Sulle figure mediche non vi è certezza ma di sicuro su allenatore e DS sembra difficile che sia stato indicato qualcuno. Ecco allora si potrebbe cominciare con la penalizzazione che non sarebbe comunque significativa. Nella peggiore delle ipotesi i lupi se la situazione non dovesse sbloccarsi a breve potrebbero anche essere esclusi dal campionato. Intanto i calciatori aspettano una telefonata così come aspettano ancora in vani Buccaro e Musa.